Arriverà una piccola era glaciale a partire dal 2020. Ma cosa succede durante una piccola era glaciale? Durante la piccola era glaciale ci sono inverni molto rigidi ed estati fresche e piovose, ma alcuni anni le estati possono essere davvero molto calde. Durante la piccola era glaciale, aumentano le probabilità di vulcani, terremoti e di forti temporali, specie durante l'estate. Questa glaciazione partirà nel 2020, per durare poi fino a 300-400 anni, ha detto la professoressa Valentina Zarcova. Questa glaciazione sarà chiamata glaciazione di Andy. Spero che il video vi sia piaciuto, e ci vediamo in un prossimo video.